Stop all'apertura nelle principali vie del centro storico di nuovi bazar etnici e take away che non facciano parte della tradizione culinaria locale o nazionale e quanto contenuto nel nuovo regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale approvato dalla giunta del comune di Pesaro, un provvedimento il primo di questo tipo nelle marche che ora dovrà passare al vaglio della regione. L'iniziativa è stata allargata tra le altre attività vietate nei due assi principali della città anche a sexy shop, compro oro, phone center e centri scommesse. Un'operazione che ha suscitato dibattito in città e sui social non sono mancate le voci di chi vede in queste iniziative una punta di razzismo. Il sindaco Matteo Ricci afferma che il comune non è contrario alle attività straniere e sostiene di voler evitare che le strade di maggior pregio di Pesaro si trasformino in vie etniche di bazar, sexy shop o distributori automatici. Il direttore della Confesercenti Pesaro Urbino Alessandro Ligurgo evidenzia che questo progetto non vuole escludere nessuna nazionalità ma le attività devono essere consone al centro storico. Nel regolamento anche l'indirizzo di stipulare nel centro della città affitti temporanei non superiori a 24-36 mesi a condizioni agevolate per start-up e imprenditoria femminile. La politica sta spingendo tantissimo sull'ecosostenibilità, il prodotto enogastronomico, la valorizzazione dei nostri prodotti artigianali quindi è anche giusto fare delle azioni che vadano nella stessa direzione altrimenti è come andare su un doppio binario. Con questo regolamento a mio avviso andiamo nella direzione di quello che diciamo, diciamo di voler valorizzare, tenere conto della tradizione pesarese, del nostro centro storico, il valore culturale e anche ambientale. Le associazioni di categoria hanno collaborato e condiviso il regolamento. È un ottimo regolamento, dà l'opportunità di riqualificare il centro storico dal punto di vista commerciale e quello che manca in questo momento perché il centro storico nostro commercialmente parlando non è appetibile perché è monotematico e noi stiamo cercando attraverso questo regolamento di diversificare, sicuramente non andando incontro o essere contrario a una legge nazionale ma dare l'opportunità a certe persone che dicono voglio andare nel centro perché commercialmente ne vale la pena ed economicamente sono in grado di poter sociali esplice.